Sì, sono io. Sono Sasha Pfeiffer del Boston Globe. Va bene. Posso farle qualche domanda? Certo, cara. Abbiamo parlato con uomini che lei ha conosciuto quando erano bambini a Evrila. E ci hanno detto che lei li ha molestati, è la verità? Sicuramente qualcosa ho fatto, ma non è mai stato davvero appagante per me. Va bene, però ammette di aver molestato bambini alla San Giovanni Battista. Sì, sì, però gliel'ho già detto, non ne ho ricavato alcun piacere. È importante capire questo. Certo. Può dirmi dove e che cosa ha fatto con tutti quei bambini? Vorrei essere chiaro. Io non ho mai violentato nessuno. C'è differenza. E io lo so. Come fa a saperlo? Sono stato violentato. Chiedo scusa, chi l'ha violentata? Ronnie, con chi stai parlando? È tutto a posto, Jane. Padre Peckin, chi l'ha violentata? Chi è lei? Sasha Pfeiffer, sono del globo. Se ne vada via immediatamente. Posso parlare per me stesso? Tu torna dentro, Ronald. Signor... Torna dentro, dentro. Scusi. Chiedo scusa, chi è lei? Sono sua sorella. E non voglio più vederla qui. Signora Peckin.